Il Veneto ha investito molto in tema di diagnostica ed è pronto a percorrere e provare tutte le vie necessarie per sconfiggere il covid-19. Lo ha detto questa mattina collegato da Roma il governatore Luca Zaia che ha voluto ricordare ancora una volta il primato del Veneto riguardo l'uso dei tamponi rapidi dando anche la novità dell'utilizzo del baby tampone a invasività pari a zero. Il futuro anche sottolineato sono sia i test molecolari della saliva come pure i test di autovalutazione da effettuare comodamente a casa. In merito invece al prossimo dpcm del governo Zaia ha fugato la paura di un nuovo lockdown con chiusura anticipata di locali attività mentre per quanto riguarda l'utilizzo delle mascherine anche all'aperto il distanziamento sociale ed il no agli assembramenti grande assenso. Lo stesso espresso anche dal sindaco di Verona Sboarina presente anch'esso alla riunione all'Ulss 9 Scaligera. Sboarina a riguardo ha detto che proseguiranno e saranno intensificati in tutto il territorio cittadino i controlli riguardo il buono utilizzo delle mascherine e già da oggi si riscontra un elevato numero di persone che pur senza un obbligo attualmente vigente ha però già ricominciato ad indossare le mascherine all'aperto un ulteriore segno di grande responsabilità dei veronesi.